Buongiorno, un saluto a tutti voi dalla redazione, buon primo maggio e ben trovati al primo appuntamento con il nostro telegiornale del mattino. Cominciamo da dove avevamo concluso ieri, cioè dalla Carrese, dai momenti di attesa e dalla delusione poi arrivata in paese con lo stop imposto dalla prefettura. Niente corsa, tanta tensione, tante polemiche, sentiamo Fabrizio Occhionero. Una giornata densa di colpi di scena che si è conclusa con il mancato svolgimento della Carrese di San Martino in Pensilis, l'evento più atteso dalla comunità è stato bloccato dall'intervento delle forze dell'ordine che non hanno consentito il via ai tre carri pronti a partire, giovani, giovanotti e giovanissimi. Le ragioni ufficiali sono in fase di accertamento, ma sarebbero in sostanza legate a criticità relative alla sicurezza. Fatto sta che le proteste e le contestazioni non sono mancate dopo ore di attesa frenetica e preparativi durati un intero anno, con l'allestimento dell'intero percorso da parte del Comune. L'ordinanza della Prefettura, che ha vietato la Carrese arrivata a pochi giorni dall'evento, aveva rimesso tutto in discussione. È seguito il ricorso al Tarma. I giudici amministrativi hanno respinto la richiesta di sospensiva, evidenziando la possibilità di poter rivedere l'ordinanza in caso di parere favorevole della Commissione, in tempo utile per consentire l'aduzione delle misure di sicurezza. Una nuova riunione della Commissione Comunale di Vigilanza, tenuta proprio il 30 aprile, ha così valutato le condizioni per riconsiderare il provvedimento. Il verdetto, arrivato nel pomeriggio, ha visto un parere positivo espresso a maggioranza da parte di sei degli otto membri della Commissione. Il sindaco Massimo Caravatta ha quindi firmato l'ordinanza, che ha autorizzato lo svolgimento della corsa dei cari nell'entusiasmo generale e trasmesso l'atto alla Prefettura. Dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola, i cari si erano comunque avviati per raggiungere la partenza, percorrendo a ritroso il percorso di circa 8 chilometri. L'entusiasmo è stato gradualmente frenato dalle prime voci relative al blocco della Carrese, con i mezzi delle forze dell'ordine che hanno raggiunto alcuni punti e di fatto hanno impedito la corsa dei carri, valutando a questo punto la mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie. Decisione non condivisa e contestata dallo stesso sindaco, che ha parlato a caldo di un sopruso ai danni dell'intero paese. Ora bisognerà capire meglio il contesto e i motivi che hanno impedito lo svolgimento della manifestazione, in una giornata che ha segnato la comunità di San Martino, la sua storia e le sue tradizioni millenarie. E a Campobasso uno spettacolo di beneficenza, la ex Gil, la voce della solidarietà, tanti cantanti sul palco per l'incasso devoluto. In beneficenza l'organizzazione della Caritas, ce ne parla Patrizia Testa. Tanta emozione per il concerto di beneficenza che si è svolto all'auditorium dell'ex Gil di Campobasso. Pubblico attento e molta soddisfazione per il direttore artistico dell'evento, Simone Sala, che ha ricordato come cinque anni fa è nata l'idea di questa iniziativa benefica insieme a Don Franco, responsabile della Caritas Diocesana di Campobasso. Questa idea di fare l'evento con la Caritas nasce da una chiacchierata al bar con Don Franco. Un caffè preso insieme, ma noi dovremmo fare qualcosa insieme prima o poi. Poi Don Franco conosce il mio essere sempre attento alle esigenze del territorio e quindi quando poi mi ha chiesto di concretizzare subito mi sono messo al lavoro. Sono passati cinque anni, ogni anno ci siamo inventati una cosa diversa. Il Molise ha sempre risposto bene, devo dire che non ci hanno mai lasciati senza pubblico, anzi il pubblico è stato sempre presente. Questo proprio per una propria sensibilità alla causa. Simone Sala al piano, il tenore Paolo Bartolucci, Anna De Socio e Federica D'Antonino Soprano e il baritono Donato di Gioia hanno emozionato gli spettatori in sala con le loro interpretazioni magistrali. Il ricavato della serata è stato devoluto alla Caritas che ogni giorno con oltre 600 volontari è impegnata sul territorio in favore dei più poveri. Noi non possiamo che rendere grazie ad artisti come Simone e tanti altri amici che in tante manifestazioni, soprattutto artistiche, hanno sempre un occhio di riguardo per i più bisognosi. L'impegno della Caritas è l'impegno della Chiesa su un territorio. La Caritas è quel braccio operativo di tutta una Chiesa, di una Chiesa che prega, di una Chiesa che crede nell'uomo e in Dio. La Caritas nello specifico, leggendo il territorio, cerca di dare delle risposte, promuovendo prima di tutto, sulla società e nella società, quelle azioni, dando voce a chi non ha voce, di benessere e di servizio, soprattutto con un'ottica particolare di attenzione alle fragilità, agli ultimi. E ora diamo uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo questa mattina in edicola con la Rassegna Stampa. Il giornale del Molise.it, San Martino in Pensilis, che ha rese bloccata proteste e tensioni, come abbiamo sentito anche poco fa. Poi la cronaca con un incidente ancora una volta mortale nei campi, cade dal trattore e muore, successo a Castelmauro, la vittima, un uomo di 71 anni. A Campobasso il Movimento 5 Stelle punta il dito sul codice degli appalti, sempre alle stesse imprese, sollecitato l'intervento dell'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Toma, monito alla classe dirigente che deve dare risposte. Il primo maggio il lavoro è un punto fermo nella nostra agenda, ha detto il neogovernatore. e poi dal Consiglio regionale la sanità pubblica e l'ambiente, le priorità di Vittorio Nola, uno dei volti nuovi del Consiglio, eletto con il Movimento 5 Stelle. E su futuro Molise, tragico incidente nelle campagne di Castelmauro, muore un 71enne, col suo trattore si è ribaltato, come vedete trasportava legna, poi Toma, i friulani, dopo i molisani mandano un segnale chiaro e inequivocabile, il centrodestra unito convince e vince sempre per la politica. Si dimette a Campobasso l'assessore comunale alla cultura Emma De Capo e poi parla Musacchio, dirigenti 5 Stelle, ingenui, presuntusi e arroganti, ecco perché hanno perso in Molise. Siamo ai quotidiani locali, cominciamo da primo piano, anche qui la Carrese in apertura, Carrese annullata prima della partenza, folla inviperita, due ore di attesa, cariche di tensione, le forze dell'ordine fermano buoi e cavalli, la Prefettura conferma il diniego, l'ok della Commissione di Vigilanza non è unanime, non era mai accaduto, contestazioni e nervi a fior di pelle, il Sindaco di San Martino commesso un sopruso. Poi la politica, Venafro, niente lista 5 Stelle, base in rivolta, è un inciucio e da Campobasso pochi fondi per la cultura, Emma De Capo si dimette da assessore alla cultura. La festa del primo maggio, impegno sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Molise celebra il primo maggio e poi la cronaca, cade dal trattore, agricoltore 71enne, muore sul colpo, vediamo la prima pagina del quotidiano, anche qui la carrese in evidenza, salta la carrese, lacrime e tensione, San Martino in Pensilis, dolore, rabbia e qualche scaramuccia, in paese dopo la clamorosa decisione, è giunta in serata nel cassettone, cade dal trattore tra i boschi di Castelmauro, perde la vita un 71enne, nel primo pomeriggio di ieri l'uomo era di palata e la politica a Campobasso lascia l'assessore alla cultura, Palazzo San Giorgio, Emma De Capo si dimette, divergenze importanti su risorse e azione dell'assessorato, Battista prendo atto della decisione e pensa alla successione. La festa del lavoro tra tradizioni e cambiamenti e poi dal governatore Toma, sulle elezioni del Friuli, la proposta ha vinto contro la protesta, dai friulani ha detto Toma, è arrivato un segnale inequivocabile e slitta intanto la nomina degli eletti e poi una notizia di cronaca, si spaccia per il fratello e tenta la fuga arrestato ed è un latitante romeno che era ricercato in tutta Europa. E ora spazio ai quotidiani nazionali. La politica tiene banco anche sui quotidiani nazionali con la resa dei conti nel Partito Democratico e di fatto l'interruzione della trattativa tra Di Maio e il PD, voto subito stop del Colle, Di Maio chiede di tornare alle urne a giugno ma secondo il Quirinale mancano i tempi, Friuli-Venezia-Giulia trionfo leghista, il PD si spacca Martina contro Renzi e poi nel taglio centrale il fotografo ucciso perché raccontava Kabul un kamikaze fa strage di giornalisti e si è fatto esplodere con una carica di tritolo. Vediamo la prima pagina della Repubblica anche qui lo stop del Quirinale al Movimento 5 Stelle, no al voto subito, bocciata la richiesta di Di Maio, in Friuli trionfa la Lega, crollano i grillini, Salvini ora a me l'incarico, caos nel PD rivolta a Antirenzi, Martina così il partito si estingue, l'allarme dell'Unione Europea, serve una manovra da 5 miliardi. Anche qui la notizia della morte del fotografo Marai che amava Kabul, strage di cronisti e nella foto centrale, addirittura sotto il cassettone, Netanyahu, il premier israeliano, l'Iran prepara 5 atomiche, Teheran sono bugie, il premier israeliano Benjamin Netanyahu pronuncia il suo atto d'accusa contro l'Iran, arriva in un momento cruciale, entro 12 giorni Donald Trump può ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare irariano che Barack Obama firmò nel 2015 e che fu il preludio alla parziale elevata delle sanzioni di Teheran, la tempistica della mossa israeliana è essenziale e poi nel taglio basso il piano industriale per l'ex Alcoa rientro in due anni per 450 operai. Anche la stampa di Torino ma un po' tutti i quotidiani oggi aprono sulla mancata intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico che qui torna però secondo la Lega a dialogare con la Lega ma solo per rivotare ira di Di Maio contro Renzi, reggente PD Martina verso l'addio impossibile guidare così in Friuli crollano i grillini e vola il partito di Salvini il Quirinale si trova davanti al Rebus del ritorno alle urne in estate nella foto centrale il primo maggio con i lavori che non ci sono più dall'ascensorista all'ombrellaia un album fotografico per celebrare la festa dei lavoratori allevatore di buoi in Honduras l'ascensorista in Brasile e poi qui una donna che lava il bucato a mano in Ecuador e infine un insegnante di stenografia in India tutti lavori effettivamente che sono un po' desueti e non sono insomma sono un po' tramontati ma comunque il primo maggio è dedicato anche a chi fa questo tipo di lavoro voto a giugno o no del Colle secondo il messaggero Di Maio torniamo alle urne abbiamo già visto tutti i titoli fotocopie ma in cassa anche il veto di Salvini che chiede l'incarico scontro nel PD sul no al Movimento 5 Stelle strappo tra Martina e Renzi la Lega conquista il Friuli nella foto che abbiamo già visto sulla Repubblica Netanyahu che parla contro l'Iran ecco le prove Trump aveva ragione il premier israeliano Benjamin Netanyahu mostra le prove contro l'Iran l'archivio dice la foto scattata dal satellite atomico vicino a Teheran a Shorabad l'Israele prepara 5 atomiche andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano che punta dritto sulla tesi grillina salta tutto si rivota e ormai insomma il Fatto Quotidiano ha sposato la tesi del Movimento 5 Stelle il centrodestra stravince in Friuli crollano i Dem Di Maio a Salvini voto a giugno ma non si può prima dell'autunno Martina ai vertici del PD contro Renzi che blocca il dialogo con il Movimento 5 Stelle la Ventino Renziano è vagamente eversivo secondo Gustavo Zagrebelsky una delle menti del centrosinistra giusta l'intesa PD Movimento 5 Stelle secondo il magistrato il giudice dunque il taglio centrale è sul intervento del premier dell'Israele del premier israeliano il presentatore di Prode ecco i piani atomici dell'Iran hanno mentito vogliono 5 bombe Trump lo dicevo su Libero invece il PD si leva i grillini dalla testa Renzi rifiuta l'accordo con Di Maio Martina ci rimane male minaccia di lasciare la guida del partito anche Luigino piange e adesso chiede elezioni anticipate Mattarella non sa a che santo votarsi il Movimento 5 Stelle difende Fico con la col fin nero e scorda che per l'Imu non pagata fece dimettere la IDEM ricorderete la vicenda di Iosefa IDEM ministro nel governo del centro-sinistra che fu costretta a lasciare per una questione più o meno analoga trionfano Salvini e Fedriga in Venezia Giulia che è il nuovo governatore della regione l'angolazione della verità quotidiano vicino alle posizioni della destra Di Maio vuole votare accontentiamolo il giornale di Belpietro abbandonato dal PD e colpito dalla batosta in Friuli va in video a chiedere subito le urne anticipate Mattarella lo ascolti gli italiani hanno confermato ancora che vogliono un governo di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia nel taglio centrale c'è la fotografia di Martina segretario reggente con un faccione di Renzi alle spalle Renzi ha divorato Martina ora distruggerà il partito l'opinione di Mario Giordano se si impantana senza i numeri il centrodestra fa la fine del Movimento 5 Stelle e poi avvenire tentazione elettorale è il titolo di apertura del quotidiano della conferenza episcopale anche qui insomma la politica in primo piano vi faccio vedere intanto la foto dedicata al primo maggio del quotidiano della CEI che era un po' sparito dalle prime pagine come avete visto dei quotidiani nazionali e insomma abbastanza clamorosamente ultima stazione titola il manifesto quotidiano comunista sulla politica interna BB show Benjamin Netanyahu è la questione sull'Israele e le bombe abbiamo sentito dell'Iran ma anche il manifesto lascia dalla prima pagina come vedete il primo maggio e questo insomma è abbastanza clamoroso prima di salutarci come sempre vediamo le notizie sportive con la gazzetta dello sport panchina Italia mancio avanti tutta blizza Roma per incontrare Costa Curta e Oriali nazionale a un passo IOCT sarebbe un onore dice Roberto Mancini e poi però il titolo sul cassettone i soliti sospetti Juve arbitri e veleni polemiche senza fine gli errori di Orsato e gli attacchi ai bianconeri l'Inter brutto spot certe cose non cambiano il sindaco di Napoli De Magistris furti di Stato e di calcio e poi in vista della nuova remuntada che dovrebbe compiere la Roma domani in Champions Allison cuore a Roma Salah vale messi ma ce la giochiamo abbiamo le stesse chance di passare anche se Momo è da pallone d'oro il mercato penso solo alla finale stasera il ritorno di Real Madrid e Bayern il 5 a 2 dell'andata lascia qualche piccolo spiraglio ma insomma serve una nuova impresa ci lasciamo con il Giro d'Italia a meno 3 dalla partenza Arus scatta sono pronto senza limiti e ho tanta fede lo scalatore sardo da oggi in Israele e venerdì il via con la crono di Gerusalemme credo in Dio e nella forza dello sport che unisce i popoli la dichiarazione del campione sardo in vista della corsa rosa e ci fermiamo qui ringraziamo Nicola Passarelli che è stato oggi con noi in regia grazie a voi che ci avete seguito da casa vi ricordo l'appuntamento con il Tg delle 14 scusate per la voce un po' traballante buon primo maggio a tutti grazie a tutti Grazie.